Dalle parole e dagli annunci ai fatti, la giunta regionale e la maggioranza accelerano sulla rivoluzione delle province che non sarà solo un'abolizione di quelle esistenti ma piuttosto una riorganizzazione generale delle competenze degli enti locali. Si è concluso ieri dopo un paio d'ore a Palermo il vertice tra il presidente Crocetta e il capigruppo di maggioranza Palazzo d'Orleans con il governatore siciliano che ha illustrato i punti chiave del decreto di riforma, una riforma su cui c'è una condivisione di massima parte dei partiti di maggioranza. Aldunque le province verranno sostituite da liberi consorsi di comuni previsti dallo statuto che avranno funzioni e competenze diverse rispetto alle attuali province a partire dalla competenza sui rifiuti, sulle acque e sull'edilizia popolare. Tutto questo porterà inevitabilmente alla fine dell'era degli ato idrici e ato rifiuti. Un altro risparmio sensibile dovrà inoltre arrivare dalle cariche elettive che nella riforma saltano tutte. Per i consorsi sono infatti previste elezioni secondo livello con organi elettivi più snelli e senza indennità. Per i consigli comunali ad esempio non ci saranno infatti indennità ma solo rimborsi per consiglieri e presidenti. Infine la riforma potrebbe decentrare ai comuni alcune competenze attualmente in carica alla province come ad esempio l'edilizia scolastica.